Musica Lunedì 11 dicembre 2017, buongiorno, bentrovati a mattino 6, primo appuntamento della settimana con la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani. Apriamo come sempre con le prime pagine dei giornali abruzzesi oggi in edicola. Iniziamo con l'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro. Il titolo principale riguarda le assunzioni in comune a Pescara 19 previste nel 2018. Venerdì scadono le domande per i concorsi di quest'anno. Questo è il titolo di apertura. E poi vedete l'iniziativa di solidarietà dell'ultimo weekend delle stelle AIL con le atlete del volley che a Pescara in Piazza Salotto offrono questo dono di Natale proprio per l'Associazione Italiana contro le leucemie. E poi in basso la cronaca, siamo all'Aquila però in questo caso, casa a fuoco, strage evitata, c'erano 18 bombole accusato il padre di un giovane suicida. Di spalla troviamo altre due notizie, due titoli di argomenti che poi ritroveremo all'interno del giornale. Primo piano la protesta, sit-in contro le ruspe per Megalod 2 e poi vedete Rigopiano, l'ex prefetto indagato oggi in procura a Pescara. Iniziano infatti oggi, questa mattina alle 9 per la precisione, gli interrogatori degli indagati, i primi interrogatori dei 23 indagati per la tragedia di Rigopiano. Andiamo a vedere altre notizie, nelle cronache Pescara, smog, valori alti nelle giornate dello shopping e poi pronta la festa perché apre oggi il parco di Colle del Telegrafo. E poi un titolo che riguarda il Pescara, lo sport, Pescara Picco, ultimi due mesi da incubo per la formazione bianca-azzurra, arrivata praticamente in zona play-out dopo anche le gare che si sono giocate nell'ultimo turno. e dunque bianca-azzurri che saranno per così dire obbligati a fare risultato e soprattutto a vincere domenica nella gara casalinga con il Novara. Vi ricordo che si giocherà domenica, non sabato, ma domenica alle 17.30 allo Stadio Adriatico. Ancora notizie dalla prima pagina del centro, fondi promessi dalla Regione, Noemi, ultimo appello del papà. Andrea Sciarretta dice che nessun aiuto ai bimbi malati, ma spero ancora. Poi un lutto che riguarda la Chiesa italiana, infatti si è spento Don Riboldi, Don Antonio Riboldi, il vescovo antimafia. Tante battaglie negli anni scorsi soprattutto in Campania per il prelato che è scomparso proprio nelle ultime ore. Lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, andiamo a vedere quella di L'Aquila-Venzano-Sulmone. Vedete il titolo principale riguarda proprio questa tragedia sfiorata nel capoluogo Casa Fuoco con 18 bombole di gas. Pensionato sospettato del rogo lo ha causato dopo il suicidio del figlio. E poi a centro pagina, come ogni lunedì, c'è il richiamo con corredo di foto che riguarda lo sport. In questo caso l'Aquila Show, che nonostante alcune partenze eccellenti in questo mercato, continua a fare risultato. Ieri una tripletta di Padovani ha rilanciato il rosso-blu regalando la vittoria alla formazione aquilana con la Iesina. Avezzano invece cade in casa, bianco-verdi battuti al De Marsi dal Pineto nel derby abruzzese. Vediamo le altre notizie. Avezzano difende l'uomo che le provocò l'overdose. E poi sul Mona la CGL accusa treni soppressi solo in provincia. E poi all'Aquila, cori alla ribalta, alla cantata di Natale. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro edizione di Teramo. Crack Baccanale, due sotto accusa, ristorante fallito, chiesto il giudizio per i soci, Paterna e Dere Migis. E poi lo sport, Roseto cede nel finale, formazione bianca-azzurra battuta sul parchè del Mantua. E poi nelle cronache, delitto di alba, tempi stretti per il processo, si va verso il rito immediato. E poi la polemica, sott'anelli, ora un vero piano per la montagna, lo chiede il parlamentare abruzzese. E poi a fuoco a casa con 18 bombe, ritroviamo anche sull'edizione di Teramo del centro, questa strage sventata all'Aquila. E chiudiamo con la prima pagina del centro, edizione di Chieti-Lanciano Vasto. Bandali alla casa dello studente, l'incompiuta di Chieti in abbandono, pronta da sei anni, ma resta chiusa. E poi Pizzutelli, trascina la vastese, arreganati pari per i biancorossi, dodicesimo risultato utile di fila per la squadra. Scusate, di Gianluca Colavitto, che ha sfiorato più volte anche il gol della vittoria. Restiamo a vasto, ma parliamo di cronaca, autobruciata sotto un palazzo, torna l'incubo. E poi Chieti, centro deserto e senza luci, non è più Natale. E poi ritroviamo anche un richiamo, in questo caso che riguarda il calcio di eccellenza. Il patron del Chieti, Trevisan, riflette sul futuro, potrebbe ripensarci e restare dopo aver annunciato le dimissioni. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Il titolo principale riguarda i trasporti, ferrovie, rivolta contro i tagli. Avezzano e Sulmona, quattro corse giornaliere in meno, l'Aquila in sofferenza, sabato e festivi. La CGL dice penalizzato solo l'entroterra, lungo la costa, treni in più tra Pescara e Francavilla. Questo è il titolo di apertura. Andiamo a vedere altri titoli. Chieti, Megalo 2, i lavori ripartono tra le proteste. E poi il titolo dell'approfondimento del lunedì, dal wellness allo sport, il turismo per i giovani, come cambia. E poi figlio trovato morto, il padre tenta di far esplodere la casa. Abbiamo visto anche questi titoli dalle edizioni del centro. E poi Teramo, il commissario tenta di bloccare i contratti. Bomba derivati, il comune ha rischi. In basso si parla a Pescara di vini, i migliori vini scelti al Marina di Pescara. E poi in alto, come sempre, i richiami della pagina sportiva. L'ex Anania difende Zeman, Pescara sostiene il mister, parla il portiere protagonista della promozione con il Pescara in Serie A di sei anni fa. E poi Volley, la Seco interrompe la Serie Nera e si rilancia. Vittoria per la formazione ortonese in Serie A2. In Serie D di calcio, l'Aquila triste di Padovani, vittoria nello stadio deserto. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Allerta meteo, emergenza in Liguria e Toscana. Il Duomo tra le palme imbiancate della prima nevicata del 2017 a Milano. Dunque è arrivato il maltempo nelle nostre zone. Dopo il freddo di ieri, oggi c'è il Garbino, ma al nord c'è il freddo, è arrivata la neve, c'è l'allerta meteo, come abbiamo visto anche in Liguria e Toscana. Altri titoli dal Corriere della Sera. A case occupate, lo Stato ha chiamato a pagare i danni. Prima sentenza, in Italia interessati 48 mila alloggi. E poi un richiamo di sport sulla prima pagina del Corriere della Sera. La sera riguarda soprattutto il Milan, il Milan di Gattuso, che torna a vincere. L'Inter resta capolista dopo il pareggio di sabato a Torino con la Juventus. Solo un pari per il Napoli. Lasciamo il Corriere della Sera, siamo a Repubblica. Grasso a Renzi, comando io, non D'Alema. Arriva a Boldrini, il nuovo simbolo e la replica al leader PD. Futuro non rossio, la rete di Salvini per il Sud. Dunque grandi manovre in vista delle elezioni. E poi Macron a Israele e Stati Uniti. La pace è in pericolo, dice il presidente francese. Siamo alla stampa di Torino, la riforma tradita. Lo Stato adesso paga solo dopo tre mesi. Noi come il Portogallo, dietro è rimasta la Grecia. E poi la battaglia del vino tra Barolo e Prosecco. Il rosso aumenta la produzione, il bianco diminuisce. E poi la carta dei partitini. Noi con Berlusconi, il centrodestra, si riorganizza. Salvini, io candidato. Dove ci sarà Renzi? Siamo al sole 24 ore. Sulle cartelle esattoriali vince il gioco d'anticipo. Con la domanda si bloccano ipoteche e pignoramenti. E poi c'è un altro articolo, diversi articoli all'interno del giornale riguardano le seconde case. Aosta ha il record di seconde case a Monza, più essenzioni per l'Imu. Siamo al Fatto Quotidiano. La stangata in farmacia, regalo di Natale, decreto Lorenzin, raddoppio della tariffa notturna e rincaro per i galenici. E poi vedete la storia di copertina, elezioni, le urne in mano ai PM, scrive il Fatto Quotidiano. Il messaggero, prima pagina nazionale. Statali, premi dopo la pagella. Dal 2018 stop agli aumenti a pioggia in busta paga. Bonus legati al rendimento e qualità dei servizi. La valutazione dei dipendenti affidata ad una commissione composta da privati e dirigenti pubblici. E poi tensione Macron e Netanyahu. Ora Israele congeli le colonie, chiede il primo ministro francese. E poi mancato lo sgombero a Roma. Il giudice condanna il Viminale. Occupazioni, il ministero fa appello. Rischio di maxi risarcimenti. Siamo al tempo. Inciuci, PM, traditori. Tanto vinco io il Cavaliere, ovvero Silvio Berlusconi. A tutto campo, nell'intervista sul tempo. Candidati Renzi, Grillo e pure Scalfari. E all'amico dell'Utri dice, ti prego, sospendi lo sciopero della fame e delle cure. Siamo al libero, mantenuti all'assalto. Così titola il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Il reddito di cittadinanza ingolosisce. Le folle. Siamo al secolo XIX. Il quotidiano di Genova che apre con emergenza maltempo. Gelate, allerta meteo. Liguria col fiato sospeso. Genoa, treno bloccato al freddo per ore. Malori e proteste. Maltempo che sta colpendo soprattutto il Nord Italia. Andiamo ancora avanti. Il mattino di Napoli. Inverno azzurro. Così titola il quotidiano napoletano. Contro la Fiorentina solo un pareggio per la squadra di Sarri. Fallito il controsorpasso sull'Inter. La macchina da golle di inizio anno si è inceppata. E poi anche sul mattino ritroviamo il titolo che riguarda il primo ministro francese Macron che sfida Israele. Congeli le coneonie. E c'è la dura risposta invece del primo ministro israeliano Netanyahu che dice Unione Europea ipocrita. Questo era il mattino, l'ultimo giornale dell'edicola nazionale che abbiamo preso in esame. Possiamo tornare al quotidiano Il Centro per andare a leggere le pagine interne che ovviamente riguardano la cronaca, le cronache regionali dalle nostre province. Poi come sempre nella seconda parte daremo ampio spazio allo sport. Andiamo a vedere i servizi delle partite di ieri giocate nel campionato di Serie D. Sì, siamo a pagina 2 del centro via agli interrogatori di Rigopiano, l'ex prefetto Provolo oggi davanti ai PM. Lui ha già detto sogno ancora i 29 morti. Gli indagati sono 23. Dunque questo è il titolo principale. Ci saranno gli interrogatori, i primi interrogatori inizieranno questa mattina poi si proseguirà nel pomeriggio e anche nei prossimi giorni. Andiamo a vedere anche in basso un altro titolo che riguarda in questo caso i bambini colpiti da malattierare. Noemi e altri 133 bimbi. Settimana decisiva malattierare. La regione si impegna a trovare i fondi del 2017. Il papà di Noemi, Andrea Sciarretta, dice lo spero ancora. Andiamo avanti. Pagina 3. I lavori partono tra le proteste. Siamo alla vicenda di Megalo 2. Si tinne per fermare il nuovo ipermercato. Chieti ambientalisti, associazioni del commercio e politici oggi davanti al cantiere. Contro le ruspe. Anche la regione. E poi treni, nuove orari in vigore, ecco tutte le corse soppresse, i tagli nell'Aquilano. E poi PD, conferenza programmatica sabato e domenica da tessa. Saranno presenti anche esponenti nazionali del Partito Democratico come Matteo Richetti, Pina Picerno e Andrea Cozzolino. E poi una targa per Marchionne consegnata al cugino dell'amministratore delegato di Fiat al raduno delle 500 che si è tenuto ieri a Chieti. Siamo alla cronaca dalle province. Partiamo da Pescara. Ritroviamo la notizia di apertura della prima pagina. Il Comune assume 19 posti entro il 2018. La giunta di Pescara approva il nuovo piano per il lavoro. Intanto venerdì scade il termine per partecipare ai concorsi di quest'anno. Vedete nella tabella le figure richieste, quali saranno le figure che riguarderanno queste assunzioni. Entro il 2018 verrà aumentato il numero di dipendenti comunali grazie a queste assunzioni, considerando anche tante persone, tanti dipendenti del Comune che sono andati in pensione. Zona Franca, 3 milioni di euro per Pescara. Il Ministero scrive ad Alfonso e Alessandrini, ecco i fondi per il progetto di sviluppo del territorio. Siamo alla seconda pagina di Pescara. Micropolveri di nuovo alle stelle nelle giornate dello shopping superati ancora una volta in città. I limiti di sicurezza durante il lungo weekend della festa dell'Immacolata. Il Comune prepara le prime misure e riscaldamenti più bassi per ridurre l'inquinamento atmosferico. E oggi a Pescara riprende in Consiglio Comunale lo scontro sul mercatino etnico. E poi folla la festa di Viale D'Annunzio. Ieri la strada chiusa al traffico per il mercatino e lo show di Induccio e Vincenzo Olivieri. E dunque manifestazioni natalizie non solo nel centro ma anche nel quartiere, nella zona di Porta Nuova. In basso sia la qualifica per l'ospedale il segretario del Partito Democratico, Moreno di Pietrantonio, lancia un appello ad Alfonso e Paolucci. La struttura di Pescara dice diventi idea di secondo livello. Addio l'artista di strada in tanti per l'ultimo saluto a Marco Filippone, chiesa gremita per i funerali del 41enne morto a Rocca Scalegna. Don Vincenzo dice era aperto, generoso, solare, si faceva voler bene da tutti. E poi spettacolare incidente ieri mattina sul Presto, nella zona di Porta Nuova, in via dei Peligni. Auto si ribalta, giovane ferito nello scontro, ferito in maniera lieve. Parco di Colle del Telegrafo, via all'apertura, l'area verde sarà fruibile nei fine settimana. Il sindaco Alessandrini dice sabato grande festa per l'inaugurazione. E poi in basso incrocia un cinghiale e si cappotta con l'auto. Sfiorata la tragedia appena l'uomo è rimasto incastrato dopo l'incidente. Poi ritroviamo anche questa bella fotonotizia che riguarda le atlete dell'Antoniana Voli di Pescara, al fianco dell'Ail, nella vendita delle stelle di Natale in centro cittadino. Aggi volazioni per l'Atari, le domande entro gennaio. Siamo a Montesilvano in questo caso. Con la dichiarazione va presentato anche il modello ISEI 2017. Esenzioni e riduzioni per disoccupati, invali di anziani, neosposi e nuove attività. Da Montesilvano ci spostiamo a Francavilla. Buoni per la spesa di Natale alle famiglie in difficoltà. Iniziativa del Comune di Francavilla, che dunque va incontro alle prese con difficoltà economiche. A Città Sant'Angelo, restaurata la porta della cattedrale, l'intervento è stato finanziato dall'Associazione San Francesco. Sabato scorso c'è stata l'inaugurazione. E poi in basso ci spostiamo a Nocciano, bimbi protagonisti del presepe, rappresentazione nel giardino di Casa Mapei. Sabato ci sarà una nuova rappresentazione coinvolti le scuole, i ragazzi delle scuole e i commercianti. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, casa dello studente in mano ai vandali. L'edificio è costato 3 milioni e pronto da 6 anni, ma non è mai stato aperto. Ora servono altri 600 mila euro per i nuovi lavori. Vedete in alto i danneggiamenti di vandali che hanno creato danni proprio alla struttura, in attesa di essere aperta. E poi all'ex Pierantoni il progetto da 220 posti letto va avanti, parla l'assessore comunale ai lavori pubblici, Raffaele Di Felice. E poi in basso, a vasto, dunque ci spostiamo nella cittadina adriatica, macchina in fiamme sotto un condominio, paura, distrutta auto di due pensionati in vacanza. E a San Salvo rogo danneggia un furgone. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'Aquila, del Centro. La strage è sventata, va a fuoco la casa con 18 bombole di gas. Sospettato del rogo Cesidio Cocuzzi, aquilano di 63 anni. I carabinieri lo ha fatto dopo aver saputo del suicidio del figlio. Vedete nella foto alcune delle bombole portate via dall'interno della casa, dai vigili del fuoco. In basso, abbiamo rischiato di saltare tutti in aria via Svizzera, residenti terrorizzati di prima mattina dalle sirene dei mezzi dei vigili del fuoco. E' del 118. Siamo alla pagina di Teramo, del Centro. Baccanale chiesto il processo per Deremigis e Paterna. Dopo il fallimento, i due amministratori sono accusati di baggarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo la tesi della Procura, avrebbero distratto dalla società la somma di 63 mila euro. A Silvi, concorso fotografico sulle bellezze e la storia della città di Silvi. E poi a Teramo, sempre polemiche dopo la caduta della giunta Brucchi. Tancredi, lo scontro in Forza Italia, dice fa ridere. Il partito è stato distrutto negli anni, ora serve solo perché è tempo di candidature. Dunque, queste le dichiarazioni di Paolo Tancredi, deputato di Alternativa Popolare. E in basso, il parlamentare abruzzese Giulio Sottanelli chiede alla Regione un piano straordinario per salvare la montagna abruzzese. Andiamo avanti, siamo arrivati però alle pagine dello sport. Dobbiamo attendere per parlare di sport. Dobbiamo andare a vedere le pagine interne dell'inserto, Abruzzo, del messaggero. Partiamo da Pescara, mercato etnico. Rispettare gli impegni, lo dice il neosegretario della CGL provinciale di Pescara, Luca Ondifero, che annuncia i primi impegni del mandato. Uno spazio, chiede Ondifero. Per quei lavoratori è urgente tornare ai valori costituzionali dell'antifascismo per contrastare anche a Pescara, detto Ondifero, l'ondata xenofoba e razzista. E poi, fotonotizia, la beffa per alcuni turisti. Neve su Londra, Ryanair lascia tutti a piedi. Odissea per i 100 passeggeri diretti a Pescara. Dunque, il maltempo che ha colpito la capitale britannica ha costretto, per forza di cose, la Ryanair a annullare o comunque rinviare il volo per Pescara, proprio a causa della neve che ha imbiancato la città londinese. Poi, i migliori vini d'Abruzzo scelti dai consumatori, il contest che si è tenuto al Marina di Pescara. Sono 33 le cantine in gara, 4 giorni di degustazione. E stasera ci sarà il podio per vedere chi porterà a casa gli ambiti, riconoscimenti. Siamo alla pagina dell'Aquila del Messaggero. Le scuole cittadine, ancora in una pericolosa fase di stallo. Dal comitato parte un duro attacco alla vecchia e alla nuova amministrazione. Eseguite le verifiche di vulnerabilità solo per i primi 100 plessi su 20 comunali in totale. E poi, perdonanza, duello traccialente e la di Cosimo. E poi, paradossi, così scrive il messaggero Poggio Picenze, oltre 100 esposti, la litigiosità dei cittadini blocca tutto. E poi, vedete, ferrovie, inaugurazione per due nuove fermate. Siamo all'Aquila. E poi, in basso, la cronaca. Ritroviamo l'articolo anche sul messaggero di quanto è accaduto ieri nel capoluogo di Regione. Figlio suicida, padre tenta di far esplodere la casa. L'uomo aveva nella sua abitazione 18 bombole contenenti gas pronte ad esplodere. Lasciamo la pagina dell'Aquila del messaggero. Siamo a quella di Avezzano-Sulmona. Treni, nuovi orari e nuove soppressioni. La CGL accusa duramente la Regione Trenitalia di colpire l'Abruzzo interno. Drastica riduzione anche dei servizi festivi. L'intera provincia dell'Aquila, dice ancora la CGL, è danneggiata per rientrare nei parametri. Chiediamo conto all'Aggiunta regionale. Restiamo sempre alla pagina di Avezzano-Sulmona. Marsica, Udc, decisi la linea politica e segretario con Leonardo Rosa, che è stato confermato segretario comunale dell'Udc avezzanese. E poi, annuncio della Dinino, il 13 maggio il Giro d'Italia passerà a Pratola-Peligna. Lo ha detto proprio il sindaco di Pratola-Peligna. In basso ci spostiamo a Sulmona. La prima emergenza è l'edilizia scolastica. Nicola Angelucci, assessore da poco più di un mese, illustra gli obiettivi. Subito dice una mappatura di quel che c'è ancora da fare. Tra sacco, un anno fa, moriva l'ex sindaco Gino Fosca, che è stato ricordato proprio in queste ore. Poi ad Avezzano, Pristipino torna in città, parlerà di mafia per il PM. Si prevedono il blocco del traffico ed eccezionali misure di sicurezza. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero Megalo II, presidio di protesta contro l'apertura del cantiere. Oggi a Santa Filomena si tiene la manifestazione di ambientalisti e associazioni di categoria. Il comune diffida, mentre Cepagatti chiede soldi e datti. L'impresa ha due autorizzazioni. E poi Casoli, il gruppo di Carlo, investe in un progetto di logistica. La società occuperà, tra diretti e indiretti, circa 50 lavoratori nella fase di avvio e successivamente supererà i 100 lavoratori. E poi, in basso, vasto abbandono delle aree interne, nasce Abruzzo vivo. Ad Ortona, creazione di un polo di infanzia. I democratici sono però contrari. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Due milioni di derivati da pagare. La pesante eredità di Brucchi. Questo è il titolo di apertura. Questa mattina è il caso all'attenzione del nuovo commissario comunale. D'Alberto, dice, era il modello di chiodi fallita. Una prima mediazione civile. E poi, Val Vibrata, aumentano i migranti comuni preoccupati. Tortoreto e Martinsicuro rappresentano i casi più significativi. Chiesti aiuti. E poi, tornando a Teramo, concerto del Braga. Domani in Parlamento a Giulianova. Vigilin Subbulio non pagato il progetto incentivante. Del 2016, in basso, ancora Giulianova. Blitz degli incappucciati. A vuoto il colpo all'alberghiero. Stavolta sono stati cittadini a denunciare la loro presenza nei paraggi. Siamo arrivati così alle pagine dello sport. Allora, possiamo, prima di andare un attimo in pubblicità, possiamo vedere almeno la prima pagina dello sport del messaggero. Si parla, ovviamente, del Pescara. Pescara sostieni Zeman. Lo dice l'ex portiere biancazzurro Anania, che è stato protagonista della grande stagione alla corte del Boemo. Resta un maestro, probabilmente l'organico, ha detto ancora Anania. Non è quello che avrebbe voluto, ma sarebbe un errore gravissimo pensare di sostituirlo adesso. E intanto si parla di mercato, con Zampano e Gans verso Sampdoria e Ascoli. Possibili scambi anche semestrali. I fari su Bastioni e Calabresi da Inter. E la Spezia, dunque, si parla di mercato. Andiamo a vedere anche la prima pagina dello sport del centro, anche quella che riguarda il Pescara. Pescara, due mesi da incubo, una vittoria in otto gare, e così i biancazzurri sono scesi ai margini della zona play-out. Ma più che margini, praticamente il Pescara è fuori dalla zona play-out, solo per una differenza reti e di scontri diretti. Pescara in caduta libera, il crollo nelle ultime otto gare. Vedete il titolo di pagina 25. In meno di due mesi la squadra è passata dal terzo ultimo al quintultimo posto. Tifoseria spaccata su Zeman, che domenica si giocherà la panchina con il Novara. Ovviamente quella di domenica prossima alle 17.30 allo Stadio Adriatico. Sarà una gara da dentro fuori. Intanto la società nulla la cena di Natale. Mercato, Sebastiani vola in Romania per incontrare il presidente del Craiova. Una vittoria, due pareggi e cinque K.O. Dal 24 ottobre ad oggi nessuno ha avuto un rendimento peggiore del Delfino. Vedete questo specchietto nelle ultime partite. La squadra che ha totalizzato meno punti assieme all'Ascoli con cinque. Poi il Foggia ha ottenuto sette punti. L'Avellino otto. E ieri nel posticipo del campionato, nello scontro al vertice dello Stadio San Nicola di Bari, vittoria del Palermo in casa dei Pugliesi per 3 a 0. Reti di Rispoli tra i coschi e Coronado per il Palermo. Vittoria che vale il primato. Solitario in classifica. In basso, bocchetti, troppi errori individuali. Ma la squadra non è allo sbando. Parla l'altro ex Biancazzurro, che faceva parte del Pescara di Zeman, vincitore del campionato di sei stagioni fa, campionato di Serie B. L'ex Biancazzurro dice ancora, alla fine il lavoro paga. Con il Boemo il Pescara potrà spiccare il volo. Serve un po' di pazienza, ma evidentemente la pazienza sta per finire sia fra i tifosi che anche in società. Dunque, noi ci fermiamo per qualche attimo. Andiamo a vedere anche le previsioni del tempo. Poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Siamo alla pagina dedicata al Teramo, dalle colonne del centro. Teramo, l'attacco resta un punto interrogativo. Barbuti e Foggia, mai pericolosi. Nella sfida vinta sabato scorso con il Fano, bacio Terracino, si arriverà a qualche offerta. A gennaio valuteremo. E oggi Biancorossi torneranno ad allenarsi in vista della gara di sabato. Giocherà alle 18.30 sul campo della Reggiana che nell'ultimo turno ha bloccato sul pareggio. Aveva bloccato sul pareggio la capolista Padova. Andiamo a vedere anche sul messaggero cosa si dice del Teramo. Teramo, voglio giocare di più. Bacio Terracino, il match winner contro il Fano chiede più spazio. Non è escluso che a gennaio possa andarsene. Chiuso dal modulo. E possiamo aprire la pagina relativa alla serie D. Lo facciamo tornando al centro. Andando a vedere pagina 28. Si parla della festa, però per pochi intimi. All'Aquila, Padovani, Terno sulla ruota dell'Aquila. Il bomber, finora secco, si sblocca. Ne fa tre e trascina la squadra contro la Jesina. Società settimana cluperi, rimborsi. Dunque l'Aquila che batte per 3-0 la formazione marchigiana. È una vittoria importante in un periodo difficile dopo delle cessioni eccellenti, delle partenze eccellenti più che altro sul mercato. Possiamo andare a vedere dunque il primo servizio che riguarda il campionato di serie D. La vittoria dell'Aquila per 3-0 sulla Jesina. Ultima gara del 2018 tra le Muramiche allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia, che ha visto l'Aquila Calcio vincere 3-0 contro la Jesina. Il poco pubblico, ma caloroso, ha potuto assistere alla tripletta di Padovani, che ha realizzato le sue prime tre reti della stagione. La gara è stata a senso unico, con il rosso-blu che hanno avuto un solo brivido al 44esimo del primo tempo, quando Trudo, con una grande botta sul 2-0, ha colpito il palo. Per la cronaca, l'Aquila si vede al decimo. Sulla fascia destra, Sieno, serve Boldrini in aria, ma Bolletta è bravo a mettere in angolo. Un minuto dopo arriva la prima rete di Padovani. Angolo di Boldrini e l'attaccante rosso-blu in sacca di testa. Al 21esimo si vede la Jesina, con una gran botta di Anconetani, che viene respinta in angolo da Farroni. La gara però è tutta di marca aquilana. Al 28esimo arriva il raddoppio, sempre dalla fascia destra, Bouchet mette in mezzo per la scivolata vincente di Padovani. Nella ripresa subito in evidenza l'Aquila. Rucci ruba la palla in mezzo ad avversari e poi lancia dal limite con Bolletta, che rimedia rispingendo in angolo. Al 15esimo Padovani sigla la sua terza rete. Azione combinata tra Sieno e Rucci, con l'attaccante che finalizza. Dopo tre minuti l'Aquila è vicina al quarto centro, ma Boldrini non riesce a beffare il portiere Bolletta, che era fuori dai pali. Al 28esimo il primo dei due gol annullati dall'arbitro per fuori gioco. Padovani, assist per Ribe, che si trova al di là dei difensori marchigiani. Brivido per la difesa di Esina, con Bolletta che svirgola la palla, ma Ibe colpisce il palo. Solo al 36esimo si vede la Jesina, con Zanini che dal limite impegna Farroni. Infine al 48esimo la seconda rete annullata per fuori gioco e rosso-blu. Marra è in mezzo per Sieno, ma per l'arbitro è da annullare. Questo è il servizio sulla vittoria netta della formazione aquilana. E noi, sempre dalle pagine del centro, parliamo invece del derby, derby di giornata, quello di ieri in Serie D nel Girone F, allo Stadio dei Marsi, dove il Pineto ha fermato la marcia dell'Avezzano. Tomassini e il Ciarcelluti trascinano i bianca-azzurri di Amaolo. Ai marsigani non basta Pellecchia, interrotta la serie positiva dopo 12 gare. Al 91esimo Giampaolo Deluso, abbiamo regalato il primo tempo, tra l'altro Giampaolo ospite ieri sera nei nostri studi, in occasione dell'Abruzzo del pallone. Amaolo soddisfatto, buona prestazione, battuta una grande. E noi andiamo a vedere proprio i riflessi filmati del derby del De Marsi nel servizio realizzato per noi da Roberta Di Sante. Il Pineto si conferma squadra a Mazzagrandi e dopo Bispesaro e Vastese espugna anche il De Marsi, battendo di misura l'Avezzano con una prova di sacrificio e carattere. Mister Giampaolo, costretto a rinunciare a Bisegna e Persia per squalifica, inserisce a centrocampo D'Ambrosio, infortunato di Curzio, la coppia da zacco e Cerone e Dos Santos. Assenze pesanti anche in casa Pineto, dove alla squalifica di Pepe si aggiunge l'infortunio di Mariani e con Zane e Gragnoli acciaccati in panchina, Amaolo schiera esposito tra le linee e 6 under, tra cui il classe 2000 di Renzo all'esordio stagionale. In avanti spazio a Di Rocco e Tomassini. Prima del fischio d'inizio affidato all'arbitro Ciaccaglia di Iesi, la società bianco-verde tributa un riconoscimento alla tifoseria avezzanese per i suoi 40 anni di attività, mentre uno striscione recita 1977-2017 onore alla vecchia guardia. Gara equilibrata in avvio al quinto, Tomassini gira dal limite, Lombardo blocca. Risponde all'ottavo d'Eramo il diagonale e preda di Giacchetta. L'Avezzano prende campo e prova a fare la partita, il Pineto chiude bene gli spazi e non rischia. Anzi, al ventitreesimo, alla primavera occasione utile, gli Adriatici passano in vantaggio con un lampo di Tomassini che dai 25 metri sorprende Lombardi con un tiro potente e preciso che si insacca all'angolino. Seconda presenza e primo gol stagionale in maglia bianca-zucca per l'attaccante ex Montevarchi. Pronta la risposta bianco-verde tre minuti più tardi con Bianciardi che conclude di poco oltre la traversa. Ma l'occasione più ghiotta per pareggiare è quella che capita al 35esimo sui piedi di Cerone, abile a coordinarsi ma sfortunato nella conclusione che lambisce il palo alla sinistra di Giacchetta per poi spegnersi sul fondo. A inizio ripresa, Giampaolo decide di inserire un altro attaccante, Pollino, in luogo di un centrocampista, D'Ambrosio, nel tentativo di scardinare le maglie ben strette della difesa pinetese. E al quinto, proprio il neo entrato, tenta la girata sugli sviluppi del calcio dalla bandierina ma Giacchetta è attento e pare in tuffo. All'undicesimo, azione concitata in area vezzanese con la sfera che deviata sembra aver barcato la linea di porta ma l'azione viene fermata per fuori gioco degli attaccanti bianca-azzurri. L'avezzano con Dos Santos, controllato a vista da Pomante e Orlando, si affida alle incursioni degli esterni Pollino da una parte e Pellecchia dall'altra che al diciassettesimo prova da posizione defilata ma trova l'opposizione di Giacchetta. La regola, con scritta del calcio, colpisce ancora e tre minuti più tardi il Pineto raddoppia. Pezzotti approfitta di un disimpegno non impeccabile e serve Cercelluti libero di impattare di testa e depositare in rete la palla del 2-0 Pinetese. Sulle ali dell'entusiasmo il Pineto potrebbe anche chiudere la partita al 23esimo ma Pezzotti da ottima posizione si fa ipnotizzare da Lombardi. I locali cercano di riorganizzarsi e dopo il colpo di testa di Menna fuori bersaglio riescono ad accorciare le distanze al 34esimo. Azione insistita dei bianco-verdi di casa con Giacchetta che prima si immola su Menna ma nulla può sulla girata dalla parte opposta di Pellecchia che forse complice una leggera deviazione accorcia le distanze e riapre la partita. Nel finale è forcing bianco-verde nel tentativo di recuperare il gol di svantaggio. Al 36esimo Pellecchia di collo pieno spedisce oltre la traversa al 41esimo Bianciardi mette alla prova i riflessi di Giacchetta che si salva distinto ma è in pieno recupero che l'Avezzano ha la palla più ghiotta per il 2-2 ma Priorelli spreca incredibilmente spedendo a lato per la disperazione dei sostenitori marsicali. Dopo 11 risultati utili consecutivi si interrompe così la striscia positiva dei bianco-verdi che pagano un primo tempo troppo remissivo dopo 4 pareggi torna invece alla vittoria il Pineto che in anella ha il dodicesimo risultato utile consecutivo e può affrontare con la giusta carica l'ultima sfida casalinga prima del giro di Boa contro la rinforzata Re Canatese big match invece per l'Avezzano atteso in casa della capolista matelica. E noi ci spostiamo nelle Marche a Re Canati botta e risposta va stese pari a Re Canati questo è il titolo del messaggero nell'acco di un minuto al gol di Falomi risponde il bianco-rosso Pizzutelli per la formazione del tecnico Gianluca Colavitto dodicesimo risultato utile consecutivo andiamo a vedere dunque che cosa è accaduto ieri al Nicola Tubaldi nel servizio. Domina per lunghi tratti di gara ma alla fine la va stese costretta ad accontentarsi della divisione della posta al Nicola Tubaldi di Re Canati in terra marchigiana finisce uno a uno la sfida con la squadra di Alessandrini che con gli ultimi rinforzi di mercato è così riuscita a sbarrare la strada a fiore e compagni meno concreti rispetto alle precedenti esibizioni ma pur sempre brillanti e propositivi alla fine però la vittoria non è arrivata con il secondo posto che si allontana dopo il successo della Vispesero a Campobasso recriminazione in casa leopardiana per un gol annullato a Pera per un fuorigioco apparso molto dubbio la Re Canatese completamente rinnovata in questo mercato presenta in campo anche gli ultimi arrivati Pera e Falomi il secondo ex Pescara per gli Aragonesi la formazione è quella tipo con Viscardi titolare in difesa Bagaglini in panchina sugli spalti circa 300 spettatori con il settore ospiti chiuso per decisione della prefettura di Macerata si comincia in un pomeriggio freddo e nuvoloso avvio che vede al quinto Bittai approfittare di un errore in disimpegno di Olivieri con la conclusione di un soffio a lato dell'avanti aragonese la risposta dei locali arriva all'ottavo con un tiro alto di Pera dall'interno dell'area di rigore al decimo però i locali passano in vantaggio grazie a Falomi che sul cross di Pera sotto rete non sbaglia neanche il tempo di esultare che la vastese pareggia con un gran gol dalla distanza di Pizzutelli che dopo 60 secondi rimette la gara sui binari della perfetta parità match subito frizzante con la squadra di Gianluca Colavitto che si rivede al quarto d'ora con una punizione centrale di Fiore che Stefanelli para senza problemi gli abruzzesi fanno la partita ma al diciottesimo ci vuole un vero e proprio miracolo di Camerlengo su tiro a botta sicura di Nodari la gara è aperta al ventudesimo e Biscardi di testa su punizione calciata da Nicola Fiore ad incornare di un soffio a lato la partita si mantiene equilibrata con diversi capovolgimenti di fronte al trentacinquesimo ci riprova De Feo e sempre dalla distanza con la mira questa volta non delle migliori dopo due minuti tocca invece a Leonetti concludere debolmente in aria fra le braccia di Stefanelli secondo tempo con gli stessi 22 di inizio gara in campo le prime fasi di ripresa non regalano grandi emozioni con gli abruzzesi a spingere però con maggiore decisione al dodicesimo un errore della difesa aragonese per poco non costa caro con Biscardi che poi va a salvare alla disperata supera al momento della conclusione dell'avanti Martigiano al quindicesimo esordio stagionale nell'avastese per Carillo che prende il posto di Bittaie al diciottesimo proprio l'ex portici di testa va a colpire un palo clamoroso con Stefanelli che sembra abbattuto cresce la pressione dei biancorossi che però rischiano al ventiquattresimo con un colpo di testa di Nodari che trova però la pronta respinta di Camerilengo che blocca proprio sulla linea di porta al venticinquesimo è clamorosa poi l'occasione che capita invece sui piedi di Stivaletta che calcia incredibilmente però a lato al ventiseiesimo i locali trovano con Pera il gol del 2-1 che viene annullato per fuorigioco dell'ex giocatore del Matelica decisione che scatena le proteste dei padroni di casa le due squadre non si accontentano e spingono alla ricerca della vittoria al trentaseiesimo si rivede la squadra abruzzese con Stivaletta che mette ancora a lato nel finale di match i ragazzi del presidente Bolami si rivedono con un tiro fuori di De Feo e poi il recupero con due minuti di overtime in cui non accade più nulla e da domani in casa biancorossa si inizierà a pensare al derby di domenica prossima all'Aragona con l'Aquila e questo quanto accaduto ieri a Recanati come abbiamo anche ascoltato dal servizio domenica prossima la vastese tornerà a giocare dinanzi al pubblico amico allo stadio Aragona nel derby con l'Aquila una partita tutta da seguire vediamo sul centro come si commenta questo pareggio del Tubal di vastese botta e risposta a Recanati soltanto un pari senza tifosi al seguito dopo il divieto dell'osservatorio biancorossi vanno sotto ma un minuto dopo e Pizzutelli a rimettere le cose a posto palo di Cherillo come abbiamo visto anche nel servizio Colavitto nulla da recriminare ha detto il trainer biancorosso al novantunesimo ci abbiamo provato ed ecco invece lo spazio dedicato al nero stellati Pratola sempre ultimo in classifica ieri un'altra sconfitta ad Agnone l'ennesimo capitombolo niente da fare per la squadra di Di Marzio in Molise il primo successo stagionale una chimera molisani che si sono imposti grazie alle reti realizzate da Di Lollo e Litterio allora possiamo andare a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione molisana l'Olimpia agnonese esce vittoriosa da quello che è il suo fortino il Civitelle battendo 2 a 0 i nero stellati un agnonese dal due volti un primo tempo in sofferenza dove i granati non riescono ad emergere tutt'altro volto nella ripesa dove viene fuori il carattere granata che rifila le due reti firmate da due agnonesi doc la prima occasione la notiamo al quinto minuto di gioco ed è questo traversone di Litterio che viene allontanato da parente al quarto d'ora la conclusione di Margarita va alto sulla traversa al ventiduesimo minuto ancora Margarita va a servire Barbosa che manda al lato arriviamo al ventinovesimo minuto il tentativo questa volta è di Nyang dalla distanza ma il risultato resta ancora fermo sullo 0-0 al trentunesimo vediamo gli ospiti da calcio piazzato con Vitone che indirizza verso la porta ma la palla è deviata in angolo da Cassese trentottesimo minuto l'occasione più ghiotta della prima frazione di gioco è proprio questo calcio piazzato di Margarita che però fa solo tremare la traversa ed è così che a reti inviolate si guadagnano gli spogliatoi a ritorno in campo il volto della gara cambia nei primi dieci minuti si fa notare l'incisività dei nerostellati al quinto minuto Rullo rinvia di testa ma si trasforma in un buon assist per Magzawi ma Faiella para all'ottavo minuto Cross di Vitone riceve un compagno di testa che manda però di poco fuori al quindicesimo Giglio innesca Santoro che lotta più riprese con Parente che però alla meglio ed è proprio ora nel momento migliore dei nerostellati che l'Agnonese passa in vantaggio con Di Lollo e ovazione per lui dal Civitelle l'Agnonese galvanizzata dal vantaggio al ventisettesimo conquista anche il raddoppio siglato da Capitano Litterio al trentunesimo dall'angolo riceve per i nerostellati del Gizzi che va a servire Bitsidu che colpisce di testa ma manda alto con il calcio piazzato di Vitone al quarantatresimo che termina tra le braccia di Faiella si rinconclude l'incontro l'Agnonese conquista punti importantissimi ma con la consapevolezza di dover fare sempre meglio e siamo alla Francavilla un Francavilla da brividi passa in svantaggio sul neutro di Vasto con la Sangiustese poi trova il pareggio tutto in sei minuti Villa porta avanti la formazione marchigiana e poi Palumbo scaccia i fantasmi ed il portiere spacca evita il KO dunque Francavilla che riesce a tre minuti dalla fine con il solito Palumbo ad evitare la sconfitta gara giocata all'Aragona di Vasto per l'indisponibilità dello stadio Valle Anzuca di Francavilla allora andiamo a vedere il servizio curato per noi da Ania Cantagalli finisce uno ad uno lo scontro con vista playoff tra Francavilla e Sangiustese un pari tutto sommato giusto tra due squadre che continuano ad andare a braccietto in classifica Giervese conferma la formazione che ha vinto contro la Vispesero e ha la bella notizia di ritrovare Fofanà in panchina e poi in campo dopo un lungo infortunio è un primo tempo però più a tinta rosso-blu in termini di occasioni da gol prima che la difesa del Francavilla prenda la misura a che dira il classe 98 crea qualche pericolo dalle parti di spacca il primo arriva al sesto quando proprio che dira dalla sinistra lascia per Tascini che però indirizza alto sulla traversa qualche istante dopo il giocatore marocchino prova ancora ad armare Tascini con spacca che riesce a sbrogliare in qualche modo il Francavilla alza poi il baricentro fa possesso palla ma Chiodini rimane spettatore anzi è ancora Sangiustese poco dopo la mezz'ora ed è ancora che dira che spara al lato un assist di Moretti l'unico vero squillo giallorosso del primo tempo arriva da un'azione sulla destra Molenda cerca Galli che di un soffio non impatta con la sfera il pallone arriva poi comunque a Yussef che però non trova la porta la ripresa si apre con una doppia occasione per il Francavilla Galli prova con uno spiavente a beffare Chiodini che si rifugia in angolo dagli sviluppi del corner prima Romeo e poi ancora Galli non sono cinici abbastanza da mettere la sfera oltre la linea di porta è ancora Francavilla al decimo quando Galli vede l'inserimento di milizia ma Chiodini è bravo a chiudere sul giocatore giallorosso brivido poco più tardi per la scuola di Iervese Tascini centra il palo dagli sviluppi di un calcio di punizione e poco dopo è ancora Tascini pericoloso in area con un tiro però debole centrale preda facile di spacca i giallorossi si spaventano forse del pericolo corso e si fanno rivedere in area solo la mezz'ora quando Miciche finisce a terra ma il direttore di gara decide di ammonirlo per simulazione è un'incertezza difensiva a premiare però la San Giustese che passa dopo la mezz'ora con Villa il Franca Villa rischia la beffa e allora Iervese priva di essere allontanato nel finale si gioca la carta a Fofanà ed è un'azione che inizia con Miciche è proprio a Fofanà a servire l'assist per Palumbo che in scivolata pareggia i conti per i giallorossi nel recupero è ancora Palumbo a provarci ma il tentativo finisce troppo alto con i giallorossi che rischiano il K.O. su un'incursione di Chedira e la travessa però a salvare Spacca e a certificare il pareggio finale ed è andata male in terra marchigiana al San Nicolò San Nicolò che non sfrutta l'uomo in più vedete il titolo del centro e perde in casa del Fabriano non basta di Benedetto ottavo gol stagionale evitare il K.O. oggi decisione sulla panchina se si cambia se dunque dovesse esserci l'esonero di Campanile il nuovo tecnico potrebbe essere Fabio Montani ieri sera come sempre in questa stagione ospite nei nostri studi come commentatore del campionato di Serie D noi lasciamo il calcio di Serie D ma parliamo ancora di calcio scusate il gioco di parole perché siamo al campionato regionale di eccellenza la diciassettesima giornata al giro di Boa sei pareggi su nove gare partiamo da quello che è accaduto a San Giovanni Teatino San Buceto Real Giulianova 0 a 0 pari e polemiche giallorossi non sfondano sul campo del San Buceto ma conquistano il titolo di campioni d'inverno il presidente Bartolini in lite con i tifosi impone ancora il silenzio in settimana decide se continuare dunque Maretta in casa Giuliese nonostante il primato in classifica dunque San Buceto Real Giulianova 0 a 0 vediamo gli altri risultati della giornata di ieri Renato Curi Angolana Penne 2 a 1 Alba Adriatica Capistrello 2 a 0 Montori 88 Cupello 1 a 1 vediamo l'altra pagina gli altri risultati Spoltore Miglianico 1 a 1 Paterno Martinsicuro 2 a 2 poi San Salvo Amiternina 1 a 2 Chieti River 65 Chieti 0 a 0 il derby tutto teatino con il presidente Trevisan che riflette sul futuro il presidente di Missionario incontrerà il vice Aielli il tecnico teatino attende gli sviluppi e poi Torrese Acqua e Sapone 1 a 1 dunque quasi tutti pareggi nella giornata vediamo invece quello che è successo nel torneo regionale di promozione partiamo ovviamente dal girone A Nuova Sant'Egidiese Ponte Vomano 0 a 4 Celano Marsica Alba Montaurei 5 a 0 Luco Cologna 2 a 2 Virtus Teramo San Gregorio 1 a 2 Fontanelle Piano della Lente 1 a 2 Rosetana Pucetta 2 a 2 Mociano Sant'Omero Palmenze 1 a 0 Notaresco Morrodoro 2 a 3 Mutignano Tossicia Sospesa per un infortunio al direttore di gara andiamo a vedere il girone B con l'impresa della Val di Sangro che in 10 vince a Casalbordino e dunque Casalbordino Val di Sangro 0 a 1 Ortona Villa 2015 3 a 0 Fater Delfino Pescara 1 a 3 Bucchianico Castiglione Valfino 2 a 1 Fossacesia Sportland Celano 1 a 0 Real Treciminiere Virtus Pratola 0 a 0 Sulmona Palombaro 3 a 0 Piazzano Diatessa Passo Cordone 3 a 0 Casolana Batte Raiano 3 a 0 e siamo alle classifiche dei tre campionati relativamente alle prime posizioni in eccellenza Giulianova al comando con 37 punti Martinsicuro 31 Paterno Spoltore San Buceto 30 Promozione Girone A Pontevomano 40 San Gregorio 34 Virtus Teramo Luco De Marsi 33 Girone B di promozione 1 terzetto al comando Ortona Val di Sangro e Delfino Pescara con 32 punti Casal Bordino 29 Lasciamo il calcio siamo a vedere quello che è accaduto nel rugby con l'Aquila che in Serie A vince e centra la pool promozione battuta la primavera Roma in trasferta per 15 a 7 Nero Verdi qualificati con due turni di anticipo e ora caccia all'Argentino Via Cava Troiani bravi ragazzi nonostante le difficoltà e invece perde in casa il Gran Sasso e perde l'ultimo treno per le prime piazze Gran Sasso sconfitta in casa dal Prato Sesto con il risultato di 24 a 12 vediamo la classifica Cavalieri Prato 29 l'Aquila 25 con il Benevento Perugia 14 Primavera Roma 13 Gran Sasso 9 prossimo turno l'Aquila che affronterà in casa il Perugia il Gran Sasso sempre in casa se la vedrà con il Primavera Roma andiamo a vedere cosa è accaduto nella Serie A2 di palla a volo con la SIECO che ottiene una vittoria scacciacrisi SIECO Ortona che batte il Taviano per 3 a 1 25-22 22-25 25-20 25-17 i parziali e dunque con questa vittoria la formazione ortonese sale a quota 20 in classifica nel prossimo turno si giocherà mercoledì dunque fra due giorni la formazione ortonese giocherà in Piemonte in casa del Mondo V che è nelle zone basse della classifica e poi vediamo cosa è successo nel campionato maschile il Color Max Altino siamo in Serie B un primato da sogno e poi invece in quello femminile da sottolineare proprio il risultato ottenuto dal Sestetto Frentano che batte in casa Cutrofiano e conquista la vetta della Serie B1 andiamo a vedere invece che cosa è accaduto nei campionati di pallacanestro partiamo dal girone della Serie A2 dal girone Est con la sconfitta del Roseto in casa del Mantua per 74 ad 85 Roseto che resta ultimo in classifica con due punti e nel prossimo turno la formazione rosetana giocherà di nuovo in casa con Ferrara e dunque una partita a questo punto davvero da vincere se si vuole continuare a sperare nella salvezza e vediamo le dichiarazioni di fine gara con Carlino sarebbe andata diversamente l'allenatore di Paolo Antonio deluso dal risultato ma aggiunge non è stata una bella partita le abruzzesi di B Campi non schiaccia sassi la vera ortona crolla Campi batte nel derby gli ortonesi 73 a 47 vince l'amatori Pescara con Senigallia 82 a 77 il Teramo espugna il campo di Nardò per 78 a 76 dopo i tempi supplementari Giulianova prova di forza nelle Marche passa per 69 a 60 in casa del Porto Sant'Elpidio atletica leggera le dichiarazioni del presidente del comitato regionale Fidal Balsorio dice è stata una stagione positiva per il movimento abruzzese la presidente del comitato regionale direttore tecnico giovanile Stefano Baldini tracciano un bilancio lusinghiero dei risultati ottenuti nel 2017 siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi il primo della settimana con Mattino 6 io ringrazio Silvia Gentile in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6 Mattino 6 tornerà domani puntuale alle 8 buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.